Anticipazioni Il Segreto, sabato 11 marzo 2017. Dolores racconterà a Gracia e a Mariana di avere orrigliato una conversazione molto compromettente tra Drone Berengario e una donna, presumibilmente sua sorella. Longinos raggiungerà Franziska per poterle dare preziosi aggiornamenti riguardo all'attentato organizzato a Munia dagli anarchici. L'uomo dirà alla Montenegro che Raimundo, per essere un simpatizzante anarchico, potrebbe finire in carcere. Nicholas verrà incaricato da Hernando di creare un catalogo fotografico per la sua azienda. Camila e Beatrice inaugureranno felici il loro negozio di profumi. L'arrivo di Hernando però provocherà un certo imbarazzo nella Val de Sace, che poi, al termine della giornata, si ritirerà tutta sola nella sua camera da letto per poter scrivere, senza essere vista, una nuova lettera alla sua amica, che vive a Cuba. Chi è Costey? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.